Buonasera a tutti e benvenuti in questo noto bar. Stasera iniziamo una delle prime nostre attività di incontro, soprattutto su alcuni settori. Noi vogliamo iniziare da quello che riteniamo fondamentale per una comunità che riguarda le attività produttive e soprattutto riguarda anche le spese improduttive che sono purtroppo gli elementi che bloccano lo sviluppo di tutte le comunità. E da dove poi si evidenzia anche la cialtroneria politica, come noi la definiamo tecnicamente, di amministratori che non si rendono conto ormai che i tempi sono cambiati e che bisogna tagliare definitivamente alcuni costi per essere sempre più produttivi. Ma preliminarmente desidero anche rappresentare quello che è stato un nostro simbolo della campagna elettorale e che riguarda la mela rossa che è stata rifiutata dall'attuale sindaco Morabito e dall'ex sindaco in futuro Morabito che gli è stata offerta da Sicilia Vera nella persona di Danilo Lo Giudice e che è stata rifiutata perché veniva ritenuta avvelenata. Vi assicuro che questa era invece una mela di saggezza, tant'è vero che io mentre andrò ora nel dettaglio del nostro incontro la mangerò proprio per dimostrare a Morabito che non c'era alcun intendimento intimidatorio da parte nostra nei suoi confronti. Certo, questo rispetto al tintinio delle manette di cui lui parla sempre, naturalmente è un dolce, il tintinio delle manette sono vere e proprie intimidazioni. Ma questo connota anche la differenza dei personaggi, uomini come noi e donne come noi che non solo puntano allo sviluppo della propria comunità ma lo fanno con serenità, lo fanno con pagatezza e soprattutto lo fanno con passione. Li guardate negli occhi, la passione trasuda dagli occhi e soprattutto mette in evidenza quello che è il cuore per una comunità. Altri, tra virgolette, uomini che non ridono mai, sono cupi e che magari gioiscono soltanto delle disgrazie altrui purtroppo sono anche elementi che esistono nelle comunità ma siamo certi che le comunità da questo punto di vista sapranno sicuramente tenerne conto e reagire in modo garbato ma deciso. Do il primo morso alla mela, definiamola, della verità e della produttività sintetizzato in saggezza che non è assolutamente, caro Ariosto, avvelenata. Vogliamo iniziare parlando intanto dei costi parassitari dell'amministrazione Morabido perché si può parlare di produzione, di attività produttive se si fa una vera radiografia di quelli che sono i costi parassitari della politica in una comunità cioè quanto si fregano i politici in una comunità quanto si fregano i politici dalle vostre tasche e dalle imposte che pagate. Una prima tabella sintetica che abbiamo così intanto predisposto e che farà parte poi di una brochure conclusiva che manderemo a tutte le famiglie riguarda i costi annui della politica santa teresina. I costi annui che la politica potrebbe ridurre a posto per esempio di aumentare le tasse, di aumentare le imposte o ci sono anche comunità dove sono state azzerate i costi della politica sono state aumentate le imposte perché non c'era altra soluzione ma a Santa Teresa invece si è fatta una cosa simpatica, bellissima i costi della politica sostanzialmente sono rimasti tali e ora vedremo anche quali sono e chi li intasca. Le imposte pare che abbiano subito un aumento conseguenziale e i servizi invece sono stati ridotti conseguenzialmente non parliamo invece di quello che è il destino delle attività produttive abbandonate totalmente a se stesse. I costi della politica santa teresina montano a circa 460.000 euro l'anno. Come sono suddivisi questi costi della politica e ora chiariremo perché si definiscono costi della politica come sapete bene il sindaco Morabito prende lo stipendio ma non quello di massimalista che giustamente lavora e ha uno stipendio quasi quanto un deputato regionale lui mi ha da questo punto di vista usato come paragone grandi mezzi finanziari dell'onorevole De Luca per fare una campagna elettorale poi noi spiegheremo pubblicamente quanto ci sta costando questa campagna elettorale e come si finanzia certo c'è una grande differenza su questo ha ragione l'onorevole De Luca incassa e spende probabilmente il sindaco Morabito incassa quanto l'onorevole De Luca li metterà in botti in CCT in Svizzera non ce ne frega da questo punto di vista quello che fa ma francamente non capisco perché a lui frega come spendiamo noi legittimamente i nostri soldi è un tema che in una campagna elettorale francamente non so quanto sia importante però noi che siamo per la legalità e la trasparenza diremo in questa campagna elettorale quanto spendiamo e dove prendiamo i soldi speriamo che il Morabito ci dica in quale Banca Svizzera detiene i suoi considerato l'entità e le cifre del suo incasso e oltre questo che è legittima attenzione perché noi non siamo comunque detrattori nei confronti di nessuno il sindaco Morabito essendo un sindaco produttivo che ha fatto arrivare milioni e milioni di euro di finanziamento a Santa Teresa naturalmente è giusto che percepisca anche lo stipendio lui e i suoi compari cioè la sua giunta voi dovete sapere che a Santa Teresa come stipendio per il sindaco e la giunta e il presidente del consiglio prima c'era anche il vicepresidente del consiglio si spende circa 140 mila euro l'anno mille euro più, mille euro meno ma questi sono il sindaco, i suoi cinque assessori più il vice sindaco, più il presidente del consiglio nel 2010 mi pare che ancora c'era pure il vicepresidente del consiglio questi sono stipendi che la comunità paga per mantenere la politica in alcune comunità questi costi sono stati già dimezzati da anni ci sono comunità dove questi costi non ci sono perché chi ha amministrato fin dal 2003 come sottoscritto a Fiume di Nisi ci ha rinunciato e allora noi facciamo un piccolo esempio se una spesa è parassitaria da quale elemento lo possiamo verificare? da quanto produce quella spesa? voi siete imprenditori, qua ci sono stasera molti imprenditori e sanno bene che ogni spesa in un'azienda deve avere un moltiplicatore diversamente rischia di essere semplicemente una spesa improduttiva e se la spesa è improduttiva in un'azienda che si fa si elimina ma io non è che voglio eliminare Morabito attenzione, lui si eliminerà da solo con le sue mani e con i suoi comizi noi facciamo un ragionamento aziendale quando una giunta e un sindaco non produce è un costo inutile cioè la comunità di Santa Teresa di Riva spende per questi signori oltre 700.000 euro in 5 anni allora la domanda che io faccio a me stesso e che faccio alla comunità Santa Teresina ma soprattutto agli imprenditori se la classe politica vi è costata circa 700.000 euro in 5 anni quanto in termini di produzione doveva garantire alla comunità Santa Teresina io credo che se facciamo dei paragoni visto che sempre il vostro sindaco fa paragoni impropri con altre comunità tenendo un giusto rapporto almeno dovevano essere produttivi di oltre il 20-30 volte in più cioè se si spende se si è speso per la classe politica Santa Teresina negli ultimi 5 anni circa 700.000 euro vuol dire che questa classe politica per definirsi produttiva e non parassitaria avrà dovuto produrre oltre 20 milioni di euro cioè un moltiplicatore di 20-30 volte perché questi sono i rapporti in 5 anni che alcune comunità come record mi permetto di dire detengono e hanno dimostrato di saper detenere in continuazione invece cosa è successo a Santa Teresa come vedremo nei prossimi giorni non è arrivato un finanziamento se non briciole che non sono definibili finanziamenti tranne che il vostro sindaco voglia parlare del finanziamento di circa 1.300.000 euro che grazie al PIST cioè all'agenzia di sviluppo locale di cui è presidente del consiglio di questa agenzia il comune di Fiume di Nisi e per la quale neanche la quota di adesione ha ancora pagato Santa Teresa e per la quale si è spesa in prima persona tale associazione Penelope e quindi una entità che da un punto di vista operativo nulla a che vedere col comune oltre questo il vuoto tant'è vero che nel primo comizio nel debutto il vostro sindaco non ha potuto far altro che parlare dell'onorevole De Luca delle disgrazie dell'onorevole De Luca della sprontatezza dell'onorevole De Luca ma perché questo? Perché ama l'onorevole De Luca? Ebbene sì probabilmente lo ama e questo noi lo abbiamo capito e probabilmente lo adora lo invidia ed è geloso ma questi sono sentimenti che non attengono alla politica probabilmente il vostro sindaco ha manifestato questi suoi veri sentimenti perché deve nascondere una deficienza di fondo la sua deficienza politica in cinque anni Morabito si è dimostrato un deficiente politico perché non ha prodotto nulla e da questo punto di vista politicamente parlando è come se si fosse fregato con la sua giunta oltre 700 mila euro e allora rispetto a questo io credo che la campagna elettorale si potrebbe fermare qua ingegnere Famulari perché quando i dati i numeri che non sono poi opinabili i numeri sono quelli e li dovete chiedere anche a chi vi ha amministrato finora rispetto a 700 mila euro spesi inutilmente produzione zero ma voi che siete imprenditori quanto tollerereste una situazione del genere? Due mesi? Tre mesi? Un anno se volete fare un ciclo e quindi cercare anche di entrare nell'ottica del cosiddetto avviamento? Ma qua sono passati cinque anni e l'avviamento è l'avviamento al baratro ecco qual è l'immagine spettrale di questa amministrazione comunale che non ride mai spettrale cioè 700 mila euro bruciate produzione zero e naturalmente questo non riguarda soltanto chi amministra voi a Santa Teresa dite chi upisce fede da testa e se fede upisce e fede a testa d'upisce fede tutto il resto infatti oltre a quelle che sono le indennità del sindaco dell'aggiunta del presidente del consiglio che sono improduttive abbiamo già spiegato perché si sono fregati i soldi poi ci sono naturalmente tutti gli altri elementi della struttura amministrativa che sono tutti esagerati perché Ariosto supisce fede da testa tutto il resto purtroppo è parametrato a testa lo stupisce e vediamo allora le altre parti di questo pesce come sono articolati abbiamo avuto un consiglio comunale che si è preso le sue indennità i suoi gettoni di presenza 10.000 euro 8.000 quelle che sono annui poi c'è anche il segretario comunale nonché il direttore generale che mi dicono che il costo lordo sia circa 85.000 euro 90.000 euro l'anno poi ci sono i cosiddetti capiari cioè i capostruttura di tutti gli impiegati comunali che prima erano 8 ora non si è capito se sono scese a 7 ma comunque noi ne abbiamo calcolato in questo momento 8 che non di stipendio attenzione di indennità aggiuntiva allo stipendio annualmente in più costano circa 95.000 euro 100.000 euro l'anno oltre gli stipendi poi abbiamo anche il cosiddetto nucleo di valutazione cioè magari i componenti che devono valutare la deficienza amministrativa e politica di chi deve essere controllato da questi signori che per carità ha previsto per legge e che comunque ha un'indennità qua massima di circa 10.000 euro l'anno poi non parliamo delle consulenze legali che annualmente è come se ci fosse un jukebox di circa 120.000 euro annui che vengono spesi per mantenere studi legali la somma di tutto questo fa circa 460.000 euro l'anno 460.000 euro l'anno per 5 anni fa oltre 2 milioni di euro mi direbbe Peppe Ciatto fa esattamente 2 milioni e 300.000 euro l'anno in 5 anni quindi alla fin fine la gestione morabito è costata alla comunità Santa Teresina 2 milioni e 300.000 euro mi direte ma se c'era un altro quanto spendavamo presto detto noi siamo nelle condizioni questi costi almeno di dimezzarli cioè se c'era un'amministrazione totalmente diversa che aveva a cuore la comunità Santa Teresina e avviare quindi realmente le attività produttive ora diremo come non avreste speso 2 milioni e 300.000 euro ma ne avreste spese 1,3 1,4 1,5 massimo come perché non perché io faccio parte della categoria di Vanna Marchi come dice il vostro ormai ex sindaco morabito ma semplicemente perché i numeri sono numeri e le rinunce rispetto alle difficoltà sono rinunce ma voi potete mai pensare comunque che un soggetto che guadagna quasi quanto un parlamentare regionale possa mai rinunciare ai suoi 2.000 euro 1.800 euro nette che costo lordo parlo con imprenditori costo lordo che cosa significa non che lordo usupiglia di soldi assolutamente guai non diciamo queste cose costo lordo significa che rispetto a quanto entra in tasca a un dipendente se gli entrano 1.000 euro in tasca cioè percepisce tanto e perché tra oneri riflessi e varie situazioni contributi e quant'altro c'è quasi un altro 1.000 euro carmelina di spese quindi significa che un dipendente che percepisce di stipendio in tasca 1.000 euro l'azienda spende 2.000 euro al mese moltiplicato per ebbene questi sono i costi lordi che riguardano l'amministrazione morabito cosa si può fare in questo semplice già molti amministratori hanno completamente rinunciato alla propria indennità pur non essendo ancora deputati e allora noi lo abbiamo scritto nel programma amministrativo non vogliamo i soldi di Santa Teresina intanto non ci interessano e non ci riguardano noi abbiamo scritto chiaramente nel programma che non vogliamo lo stipendio noi significa il sindaco significa la giunta significa il presidente del consiglio significa la maggioranza che verrà eletta nel consiglio comunale perché per noi fare politica nelle amministrazioni locali non è uno stipendificio significa volontariato come si fa in tanti enti come per esempio Danilo nel 118 nella croce rossa dove lavora qualcuno di Santa Teresa pure giusto magari il sindaco sa chi lavora la vengono pagati pure bene perché sono aziende regionali regionalizzate tornando a noi per noi è volontariato noi lavoriamo per le nostre comunità per passione perché ci viviamo nelle nostre comunità e di conseguenza per noi far aumentare il valore il patrimonio della nostra comunità significa anche far aumentare il nostro patrimonio perché no ecco qual è lo spirito della nostra missione quindi quei 140 mila euro l'anno che erano i costi netti anzi lordi della politica Santa Teresina con noi verranno cancellati quindi in 5 anni i 700 mila euro che già avete sprecato per questi signori per quelli che anche c'erano prima per chi qua da questo punto di vista non è che ci sia grande differenza questi soldi si sono sempre spesi a Santa Teresa quando noi diciamo che sono tutte stesse non è che l'altro candidato sindaco quando era sindaco Carletto lo schiavo lo faceva gratis o di spese legali si spendeva di meno ma quando mai se andiamo a fare i confronti anche con dati alla mano probabilmente certi costi della politica certe spese legali tra il 2004 e il 2006 erano forse più elevati del 2007 2011 ma voi mi direte o meglio Iavarrugna no non c'entra qua è una questione di scelta netta cioè se realmente si ama la propria comunità e si sta bene perché alla fine io sto bene sono un deputato grazie a Dio ho uno stipendio che invidiano tutti quanti ho altre entrate perché lavoro e continuo a lavorare perché non voglio essere schiavo della politica e li spendo perché così sono fatto e perché da questo punto di vista ritengo che chi ha di più deve dare molto ma molto di più quindi potrei mai io prendermi lo stipendiuccio scusatemi io che ho il mio reddito che poi lo vedrete a Messerio l'ultima settimana quanto guadagna l'orevole De Luca perché faremo in piazza non solo la fotocopia delle denunce del reddito dell'orevole De Luca ma anche come è diventato ricco perché è tema questo di campagna elettorale che interessa al vostro sindaco non interesserà a nessuno di voi ma a lui interessa perché vuole capire come mai De Luca rinuncia allo stipendio rinuncia perché De Luca ama la propria comunità e quindi io oggi mi sento integrato a tutti gli effetti a Santa Teresa di Riva e non posso che amare Santa Teresa di Riva come ho amato e amo Fiume di Nisi come mi sono comportato a Fiume di Nisi mi comporto a Santa Teresa il ragionamento è molto semplice e lineare il direttore generale segretario comunale scusatemi noi a Fiume di Nisi ne avevamo una a tempo pieno ne abbiamo preso una a 4 ore settimanali spendevamo 110.000 120.000 euro mi ricordo quanto ne avremo speso dopo Danilo circa 25.000 euro l'anno qua non significa che non si possa fare per quanto è importante Santa Teresa ma io credo che un segretario comunale ce lo potremmo condividere con altri due comuni piccoli e quindi apposta di spendere 85.000 euro l'anno ne spenderemmo 40 50 ma non 85 e quindi anche qua un altro costo che si dimezza i capi area i capi area anch'io quando mi sono trovato sindaco ne avevo 5 li ho ridotti a 2 e poi li ho passati a 3 perché quello era l'impegno non voglio fare terrorismo ma io ritengo che 8 capi area anche se ora dicono che sono scese a 7 ma sempre molti sono ne faremo 3 4 il minimo indispensabile ma comunque non oltre quel numero perché non è necessario da questo punto di vista averne tanti e spendere quindi questa cifra in più rispetto agli stipendi nucleo di valutazione se ne farà un solo componente consulenze legali e beh queste qua o si dimezzano o si dimezzano perché magari apposta di prendere studi blasonati importanti per carità che anche già il solo nome fa impaurire l'avversario però rispetto ad impaurire l'avversario preferisco impaurirlo di meno e non impoverire le tasche invece dei miei contribuenti e di conseguenza vi assicuro che le spese legali quanto meno si dimezzeranno il risultato finale quale sarà che con questa proposta politica e non perché è una proposta perché già lo abbiamo fatto consentitemi in altri posti e in altri tempi con questa proposta politica dimezziamo questa spesa 2 milioni e 300 mila euro e costato morabito alla comunità Santa Teresina e a prodotto zero noi costeremo al massimo 1,3 1,4 nel senso che rifiutiamo l'indennità quindi noi prenderemo zero tutto il resto della macchina amministrativa che viene messo nel costo della politica perché sono scelte politiche queste cioè la politica che stabilisce se si fanno 8 capi area cioè impiegati che hanno l'indennità aggiuntiva perché hanno delle responsabilità o se ne fanno 4 o 3 non è il popolo che stabilisce è la giunta comunale lo stesso è una scelta politica avere un segretario comunale direttore generale al 50% part time oppure averla a tempo pieno queste sono scelte politiche lo stesso riguarda anche le consulenze legali certi avvocati sono scelti per politica si scelgono per professionalità naturalmente e quindi si guardi anche ad altri tipi di aspetti tutto questo si chiamano costi della politica e noi abbiamo schiarito perché sono costi improduttivi quelli che noi stiamo dicendo sono costi parassitari questa classe politica che vi ha governato si è fregata da questo punto di vista politicamente i soldi e noi diciamo basta e vi consigliamo di dire basta naturalmente questo che significa andando ora sul piano produttivo se in un'azienda posto qua ci sono nodi imprenditori non faccio il nome non inquadrateli perché purtroppo il vostro attuale sindaco è impazzito comincia ad andare di testa e non vorrei poi che li denunciasse e gli aumentasse all'improvviso da domani e dopo domani qualche imposta di occupazione di suolo pubblico o qualche altra cosa lui li fa queste cose è bravo in queste cose è anche un maestro anzi bisognerebbe prendere esempio perché ogni intanto essere troppo buoni purtroppo potrebbe creare qualche problema ma noi guardiamo avanti invece con serenità e guardiamo ben altri esempi io chiedo a voi imprenditori ma se siete imprenditori come lo siete se la vostra azienda in cinque anni risparmia un milione e centocinquanta un milione e duecentomila euro che magari corrispondono annualmente a circa duecentomila euro voi che siete veri imprenditori non è che ve li mettete in tasca voi investite naturalmente e allora io che sono da questo punto di vista un imprenditore che come dice Morabito è inseguito dal tintinio delle manette e allora ragiono come voi se risparmio duecentomila euro l'anno al comune minimo e allora che faccio questi duecentomila euro l'anno li rendo produttivi come per esempio si potrebbe anche da questo punto di vista pensare a un mutuo per mettere in moto ora quello che noi abbiamo in mente perché stasera parleremo già in parte del nostro piano strategico voglio dire agli imprenditori e quindi alla comunità che ogni cinquantamila euro di spesa risparmiata consente di fare un mutuo di un milione di euro cioè ogni Morabito messo da parte chiaro ogni Morabito messo da parte e quindi che può portare a un risparmio di circa duecentomila euro l'anno significa un mutuo di 4 milioni di euro ma vi rendete conto in opere pubbliche cosa significa 4 milioni magari il cofinanziamento di opere per 40 milioni di euro come fanno nei comuni produttivi cioè si indebitano per magari contrarre un mutuo per cofinanziare il 10 il 20 per cento di un'opera pubblica molto più grande cioè pensiamo noi magari un'opera pubblica di 20 milioni di euro la vogliamo cofinanziare perché il finanziamento del bando prevede che se c'è il cofinanziamento del comune c'è un punteggio massimo si vince il bando quindi non bisogna essere Vanna Marchi bisogna essere efficienti e non deficienti ecco qual è la differenza allora immaginate un'opera così grandiosa la si può cofinanziare togliendo Morabito di Torno per esempio ecco qua abbiamo visto quali sono le differenze e di questo ne parleremo perché queste sono le vere scelte poi di un imprenditore di un amministratore che da questo punto di vista in soli cinque anni vuole positivamente stravolgere una comunità perché questo è l'altro elemento che noi abbiamo sottolineato cinque anni non un giorno in più l'onorevole De Luca è disponibile per cinque anni perché la scommessa vale cinque anni non un giorno in più e allora in tutto questo si introduce ed ecco anche il tema fondamentale dell'incontro di questa sera quella che è una rivoluzione della spesa comunale e quindi guardare definitivamente a quelli che sono gli elementi di stravolgimento positivo della nostra comunità qual è l'opera cardine che noi vogliamo fare e che dimostreremo come faremo gli altri non ne devono parlare se qualcuno parla dello svincolo autostradale prendetelo a pernacchie perché è da oltre vent'anni che poteva essere fatto e non è stato fatto perché un'opera che costa sette otto milioni di euro che rispetto agli altri svincoli costa quindi un terzo o neanche perché lo svincolo autostradale vi faccio l'esempio della valle del Nisi ha un costo di circa 30 milioni di euro complessivi 30 milioni e ci sono 15 milioni che ho difeso sempre in continuazione fino a quando ero vivo ora non so che fine hanno fatto perché nell'accordo di programma si doveva integrare la somma e quindi partire definitivamente con l'appalto perché il progetto esecutivo è stato fatto perché ho citato quello svincolo per fare un paragone se quello costa 30 e questo costa 7 8 ma pure 10 ma scusatemi 10 milioni di euro uno svincolo autostradale perché non si è fatto finora la classe politica non ha avuto interesse perché la classe politica Santa Teresina vi deve tenere sotto scopa dovete stare tutti sotto scopa così il voto lo darete in funzione della ricetta e delle analisi del sangue e di conseguenza ognuno di voi si sentirà obbligato a queste cose perché se la comunità cresce e quindi si evolve e quindi diventa autonoma si emancipa e quindi comincia a guardare la classe politica dall'alto in basso per la serie ma tu sei produttivo o sei un parassita sei produttivo se sei produttivo sei come me ti voto se sei un parassita stai lontano questo è il nostro obiettivo cercare di crescere assieme e far crescere la comunità attraverso quelle opere straordinarie che in automatico li fanno crescere poi vi potranno fare ricetta analisi del sangue visite mediche gratis tutto quello che volete li guarderete dall'alto in basso perché non siete schiavi né di queste cose e soprattutto di quel posto che viene continuamente fatto vedere con lo specchietto come specchietto delle allodole e poi finite le campagne elettorali manco se scrivete a chi l'ha visto vedrete il posto e chi ve l'ha proposto noi vogliamo emancipare la comunità Santa Teresina la prima opera per fare questo è lo svincolo autostradale la località Barracca la conoscete tutti e c'è da questo punto di vista facciamo vedere come già è stato previsto questo è un progetto preliminare che noi già avevamo predisposto va aggiornato naturalmente in una serie di elementi ma è quello che secondo gli standard sono le opere da realizzare a Barracca i Santa Teresini non sanno una cosa che ha una casa a Santa Terese e viene sempre in villeggiatura il direttore regionale dell'ANAS pochi lo sapete non faccio il nome per questione di privacy so anche dove abita e con quest'amico quante volte ne abbiamo parlato e quest'amico quante volte mi ha parlato della stupidità e della miopia della classe politica Santa Teresina ebbene questa è un'opera che rispetto agli effetti costa poco e io vi dico anche che c'è la soluzione economica per farla e allora andiamo a che cosa a ciò che diventa oro la terra che diventa oro quella zona che abbiamo noi definito sinteticamente la zona catalmo in questo momento vale 10 ha un valore ma voi vi immaginate la zona catalmo tutte quelle centinaia quegli ettari di terreno con lo svincolo autostradale per ora ci fermiamo solo là poi parleremo degli assi viari e quindi di ciò che si mette in moto per i commercianti fermiamoci là perché noi da là autofinanzieremo lo svincolo autostradale guardate ettari e ettari di terreno che non solo viene urbanizzato immediatamente ma diventa l'insediamento produttivo più importante da Messina a Mr. Bianco non c'è un'area di queste dimensioni che possa essere paragonabile alla zona industriale e commerciale di Mr. Bianco io da questo punto di vista e Nino dovremo fare anche qua una verifica sono certo che l'area è quasi quanto quella di Mr. Bianco oro questo diventa oro solo con un'opera di 7-8 milioni di euro lo svincolo autostradale perché diventa oro quest'area perché se vale 10 in questo momento con lo svincolo autostradale varrà 100 cioè se per ora vale 10 a metro quadrato varrà 100 a metro quadrato e perché vale tanto perché noi qua nel nostro piano strategico abbiamo previsto quello che è giusto prevedere e che faceva parte del vecchio piano di fabbricazione di Santa Teresa che ora si sta cercando di fare con lottizzazioni private ma che non hanno da questo punto di vista il respiro che devono avere qua ci sono le aree per gli insediamenti produttivi area artigianale per servizi e turistico alberghiere qua ci sono investimenti e gli investimenti che possono cambiare definitivamente il destino della nostra comunità e come è molto semplice io so che Santa Teresa è piena di alberghi per carità voi mi direte ormai abbiamo migliaia di posti letto De Luca sei superato non abbiamo più bisogno di posti letto abbiamo migliaia e migliaia di brande nelle case quindi che posti letto che ama a fare giusto io vi dico però mi consentite un piccolo pezzo stasera andremo tutti a cena d'amorabito per la serie ci sono le brande ci sono le case e soprattutto ce ne sono tante pure disabitate perché Santa Teresa poi in estate esplode quindi voi sicuramente farete riferimento alle case sfitte o meglio alle seconde e terze case ma io credo che da questo punto di vista il risultato già lo avete visto in questi anni neanche una vera politica di seconde case in affitto si è mai potuta fare ma io parlo di altre cose io parlo per esempio di quelle cose che mi ha ricordato nel suo comizio il vostro amato sindaco del tintinio delle manette perché voglio fare un centro benessere a Fiume di Nisi per esempio perché non si deve fare a Santa Teresa là in quelle zone belle pure il golf si può fare caro buon figlio da questo punto di vista le superfici ci sono abbiamo fatto dei piccoli calcoli proprio dei calcoli anche per l'intera superficie e guardate si possono insediare oltre 100 intanto imprenditori nelle attività artigianali e commerciali a voglia a fare la cittadella dopodiché abbiamo anche fatto un calcolo medio di quello che può essere un insediamento turistico alberghiero di grande comfort con servizi annessi che danno le introide al comune perché solo di oneri di urbanizzazione questa operazione fa entrare nelle casse comunali circa 3-4 milioni di euro cioè soldi che producono soldi ma non siamo vannamarchi noi siamo amministratori accorti che con i numeri e quindi siccome il signor Morabito ha detto che è pronta alla sfida noi lo sfideremo sabato della prossima settimana mi pare è previsto De Luca a confronto con i candidati al sindaco sui numeri però sulle vicende giudiziarie ci sono altre aule chi è povero e deficiente politicamente parlando parli cortesemente di numeri e di ciò che ha fatto metta a confronto i programmi Morabito ha presentato un programma cinque anni fa e ha fatto zero in cinque anni tant'è vero che lo stesso programma lo stesso colore la stessa faccia gli stessi numeri le stesse fesserie con gli stessi uomini e noi naturalmente non è che possiamo votare sempre le stesse persone che non fanno sempre le stesse cose quindi capisco che la paura di confrontarsi sui numeri cioè sul nulla per loro li porta a certi ragionamenti noi invece vogliamo sempre fare politiche e proporre cose positive alla comunità allora rispetto a questo noi lanciamo la sfida e naturalmente siamo già pronti a sottolineare perché non si è fatto finora ci diranno una serie e un cumulo di fesserie sapete già che sono fesserie loro hanno avuto vent'anni per farlo e non l'hanno fatto non capisco perché lo dovrebbero fare nei prossimi cinque anni che ormai le soluzioni finanziarie diventano sempre più complicate queste soluzioni queste idee che fanno parte delle linee guida del nostro piano strategico che stiamo completando con l'ingegnere famulari e che si chiama la Santa Teresa che sarà la Santa Teresa che verrà se voi naturalmente deciderete di volerlo perché poi dico sempre e non si offenda nessuno ognuno ha gli amministratori che merita e quindi c'è poco da discutere su questo cari Santa Teresini se voi volete quegli amministratori allora da questo punto di vista è semplice confermate la deficienza politica che vi ha governato in questi anni se invece volete fare una grande scommessa d'altronde avete perso vent'anni trent'anni perderne cinque che è un delitto no credo che rispetto al tempo che avete bruciato e ai posti di lavoro che sono stati bruciati in questi anni allora credo che la scommessa sia fondamentale fatto questo ragionamento e qua naturalmente chissà quanti grandi imprenditori non imprenditori scarsi come a De Luca grandi imprenditori qua ci vogliono non sono pronti a fare l'investimento nella contrada Catalmo e fare quindi questi migliaia e migliaia di metri quadrati per attività produttive turistiche alberghiere e quant'altro questa zona ha delle caratteristiche uniche non esiste nella Sicilia orientale un'area dove di queste dimensioni e in questo specchio bellissimo c'è attività produttive attività turistiche alberghiere servizi svincolo autostradale e il mare a quanto? 300 metri 500 metri e allora quando dico c'è l'oro nelle mani e purtroppo c'è la brutta abitudine di sputargli sopra questo sì che è veramente un ragionamento immorale indecente ragionamento di deficienti noi vogliamo mettere da parte tutto questo fatto questo il resto viene da solo perché è normale che se Santa Teresa finalmente si apre al mondo e allora le attività commerciali non si trovano chiuse in una logica brutta di quelle logiche che non sorridono mai come Morabito Cupo che ha gli occhi spenti non del pesce lesso degli occhi spenti proprio cioè non c'è passione ecco la comunità di Santa Teresa purtroppo in questo momento se io la dovesse dipingere prenderei la faccia di Morabito e direi questa è Santa Teresa vi offendete? sì mi direte perché i Santa Teresini che sono? Morabito i Santa Teresini si possono mai rappresentare caratterialmente economicamente e quant'altro con Morabito giammai sia i Santa Teresini sono un'altra cosa gente gioiosa gente passionale gente che ci crede gente produttiva sì gente magari che non ha bisogno di Morabito ma uomini veri e donne vere sono però ecco noi rispetto a tutto questo non possiamo dire che in questa fase Santa Teresa è lo specchio di Morabito o meglio che Santa Teresa sia rappresentata da Morabito è una bestemmia per le vostre tradizioni e per quello che voi avete finora rappresentato cos'era Santa Teresa quando avevo i calzoncini corti allora per carità ci potrebbe essere un raizzo o meno ma comunque erano periodi dove Santa Teresa io me lo ricordo ho fatto in consigliere comunale a Fiume di Nisa avevo 18 anni quindi parliamo del 1990 io mi ricordo Santa Teresa come se fosse allora la metropoli veramente non Messina si andava a Santa Teresa a fare acquistare tutto e a trovare tutto Santa Teresa era il faro della Rivera Ionica lo era nei fatti lo era nell'economia lo era da un punto di vista aziendale lo era in termini produttivi lo era in termini occupazionali ora è la stessa cosa mi pare che ormai il colpo finale è stato dato da qualcuno ecco quelli sono i delitti che francamente il codice penale non prevede come punizione che dovrebbe prevedere e così ci sarebbe la par condicio per tutti cioè gli amministratori che sotto il profilo politico si sono rubati soldi perché non hanno fatto niente e che quindi hanno bruciato solo di stipendi i suoi personali circa 700 mila euro in cinque anni che hanno bruciato posti di lavoro che hanno fatto fallire aziende perché quando un comune non funziona e non dà vere prospettive ma per mantenersi lo stipendio aumenta le imposte fa fallire le aziende che fa scappare i giovani al nord perché non avendo un piano regolatore che ancora Santa Teresa non ha per esempio e non essendoci una leva urbanistica obiettiva fa scappare i giovani e quindi le famiglie piangono le famiglie pensano ai giovani ai loro figli che sono in altri posti tipo Sbizzera dove magari tengono i soldi gli amministratori come blasonati come possa essere rispettabilmente legittimo è anche se c'è stato lo scudo fiscale come morabito per carità saranno i Sbizzera a fare da custodi ai soldi di questi signori ma per tutto questo che pena c'è c'è una pena nel codice penale no c'è una pena politica lo sapete volgarmente come si chiama questa pena politica calci in culo non si chiama diversamente si chiama calci in culo cioè fatta la verifica e preso atto che politicamente hanno bruciato soldi non hanno prodotto hanno ammazzato i nostri sogni non solo si permettono di puntare il didino anche nei confronti di chi strafa perché non deve fare deve pensare al suo carico giudiziario ma se io dovesse pensare a questo credo che per i prossimi dieci anni e sì dovrei stare in un monastero in silenzio calmo poi passeranno dieci anni magari mi scogioneranno perché di questo si tratta ma intanto abbiamo eliminato un uomo scomodo un uomo che diceva Raffaele Lombardo che è parassita e che è scorretto nei confronti dei siciliani e che fa politica quasi con un metodo mafioso e che diceva alla classe politica improduttiva che dovrebbe scappare dalla Sicilia perché sono i primi che si sono venduti e che ha detto agli amministratori locali che sono cialtroni perché sono i primi responsabili di questa situazione infatti il vostro sindaco è uno di quelli che ha venduto la riviera ionica alla comunità di Catania il metano se l'è svenduto ha contribuito pure lui per farlo cioè per sbenderlo ai catanesi per non parlare delle altre cose ma ci sarà tempo nei nostri comizi perché non solo sta gente si è fregato questi soldi questa gente ha fatto un danno irreversibile e questo danno noi ne dovremo parlare nelle piazze perché questi sono i fatti di valutazione che la gente deve tenere presente quando vota poi De Luca in questo momento è un presunto sottolineo delinguente ci sono le aule dei tribunali dove nel tempo dovremo spiegare dimostrare perché De Luca era incazzoso era impertinente diceva no in continuazione ci vorranno anni ma nelle piazze i processi si fanno alla politica si fanno ai fatti politici e allora il signor Morabito deve processarmi politicamente se ha gli attributi e se è all'altezza di farlo ma non ha nell'uno e non è all'altezza di farlo questo purtroppo la vita lo dimostra rispetto a tutto questo noi siamo sereni di come stanno andando le cose e questo ci tengo a sottolinearlo stasera noi abbiamo solo dato un piccolo esempio di come si possono cambiare le cose tenendo conto dell'oro che abbiamo nelle mani certo qualcuno mi dirà guarda da Vanna Marchi è diventato Remita era quello che toccava le cose diventavano oro e perché no un titolo che mi potrei anche auto attribuire io sono il Remita della politica l'ho dimostrato in otto anni di onorato servizio perché ancora nessun amministratore in otto anni è riuscito a mettere in moto 150 milioni di euro di investimenti pubblici e privati nella propria comunità e nell'intero comprensorio che me ne nominate me ne uno e io rinuncerò a fare politica ve lo assicuro ma siccome da questo punto di vista purtroppo per noi perché io non sono geloso e invidioso come Morabito buon figlio se lei diventa ricco io sono contento chiaro ma se li spende i soldi sono ancora più contento però perché lei contribuisce a sollevare quelli che sono le sorti miserabili di una comunità dove in questa miserabilità uomini altrettanto miserabili ci hanno purtroppo ridotto ecco questo è il remita remita chiamatelo come volete allora che sia Santa Teresa remita ormai della politica tutti i santateresini avete la possibilità ormai da questo punto di vista gli elementi sono chiari a tutti noi abbiamo fatto una disamina di quel che non può più essere sopportato a Santa Teresa ma al di là di questo c'è quello che la brutta immagine di Santa Teresa noi vogliamo partire invece dai veri santateresini quelli che sono ripeto positivi produttivi commercianti per natura grandi imprenditori e che hanno ancora la volontà e ce ne sono tanti e questa sera lo state dimostrando ma lo state dimostrando con le vostre presenze sono soprattutto quelli che vogliono chiudere questa brutta pagina perché ancora i propri soldi li vogliono investire qui non li vogliono portare in Svizzera non vogliono seguire il cattivo esempio di chi l'ha amministrati finora non vogliono da questo punto di vista che i loro figli vengano sistemati al 118 o per esempio alla Croce Rossa italiana no vogliono che i loro figli lavorino nelle aziende proprie e che quelle aziende creino posti di lavoro per altri figli dei santateresini questo vogliono questo noi vogliamo e pretendiamo e questo noi sicuramente otterremo con il voto popolare che avrà non solo l'onorevole De Luca ma la lista Sicilia vera libera Santa Teresa grazie e alla prossima